siamo sotto la tenda del vm racing con matteo valdo innanzitutto complimenti per la struttura veramente bella raccontaci un po come è nato il progetto della super moto per voi allora ciao tutti allora il progetto è nato dieci anni fa ormai da da uno scherzo siamo abbiamo fatto insieme una gara io e luigi domenichini che ancora nostro pilota dopo dopo i dieci anni è nato è nato tutto da uno scherzo a facendo un'assistenza così pronti via ad una gara di un regionale e dopo da lì pian pianino pian pianino è partito tutto e siamo arrivati fino qua insomma quali sono i programmi della stagione oltre agli internazionali d'italia super moto vi schiererete ad altre competizioni si oltre agli internazionali d'italia facciamo tutto il campionato triveneto con con altri clienti sempre offrendo il nostro servizio assistenza che vediamo alle nostre spalle e la formazione come composta io vedo qui tre moto raccontaci un po nomi classe tutti i dettagli certo allora siamo in sella yama 4 50 su classe s4 con para lorenzo primo anno per internazionali d'italia per lui abbiamo fatto un buon percorso insieme e l'abbiamo portato dal regionale a fare l'internazionale insomma c'è da lavorare si sta impegnando tantissimo e sicuramente faremo dei buoni risultati in classe s2 invece abbiamo come dicevo prima il nostro luigi domenichini che ormai esperienza decennale con vm racing e matteo piva da ormai due anni con noi che se si trova bene sulle nostre moto e sicuramente riusciamo a fare fare qualcosa di buono grazie a tutti ciao ciao